Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci ben ritrovati su Sicilia 24. Parliamo di cronaca partendo da Noto, dove la polizia ha subito individuato e poi denunciato l'autore di un furto. I dettagli nel servizio. Agenti del commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 48 anni per il reato di furto. Il 12 novembre scorso i poliziotti in servizio di controllo del territorio hanno rinvenuto uno zaino con un portafogli poggiato sopra. All'interno del portafogli gli investigatori hanno rinvenuto documenti e carte di credito grazie alle quali sono riusciti a risalire al proprietario dello zaino, un titolare di un esercizio commerciale che si trova a poca distanza dal luogo del ritrovamento. Gli agenti pertanto si sono recati presso il negozio dove il titolare riferiva che poco prima ignoti si erano introdotti nell'esercizio dall'entrata secondaria asportando lo zaino contenente il portafogli con 450 euro, carte di credito e documenti vari. Gli investigatori, verificata la presenza di un impianto di videosorveglianza, visionando le immagini sono riusciti a risalire in breve tempo all'autore del furto, un uomo già conosciuto alle forze di polizia che per tali motivi è stato denunciato per il reato di furto. Ed ora una tragica notizia che arriva da Pantelleria. Una scienziata esperta di biologia molecolare e genetica, una 33enne veneziana, è morta a Pantelleria mentre stava facendo un'immersione nello specchio di mare nella zona di Scauri. Per chiarire le cause della morte, la procura di Marsala ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Ed ora invece a Enna, dove il questore ha preso seri provvedimenti per un uomo di Barra Franca, protagonista di una violenta rissa. Al fine di contenere e reprimere la cosiddetta movida violenta, il questore di Enna, a seguito di accertamenti svolti dal personale della Polizia di Stato su proposta del comando Compagnia Carabinieri, ha emesso nei confronti di un soggetto residente a Barra Franca e già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, un provvedimento di divieto d'accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze a tutti gli esercizi pubblici ai locali di pubblico intrattenimento insistenti nel comune. Il decreto scaturisce dall'attività di indagine effettuata a seguito di una violenta rissa avvenuta il 6 agosto scorso nei pressi di un locale situato al centro del paese, alla quale hanno partecipato vari soggetti anche con precedenti di polizia. A carico dell'uomo, incline alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, è stato disposto anche l'obbligo di comparizione presso il comando Stazione Carabinieri del Comune interessato. Il questore di Enna, basandosi sulle evidenze investigative emerse, tenuto conto dell'assoluta gravità dei fatti accaduti, ha emesso il suddetto provvedimento volto a impedire che la continuazione di detta attività potesse dare seguito a reiterazioni di similari episodi violenti, nonché a fortificare il convincimento nella popolazione che tali condotte antigiuridiche non possono e non debbono essere perpetrate senza che gli autori ne subiscano le conseguenze previste dalla legge. Da Enna a Marsala dove a finire nei guai è invece stato un ragazzo, un giovane di 20 anni, protagonista di maltrattamenti, in questo caso nei confronti della madre. I Carabinieri hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Marsala, un giovane di 20 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare per altri reati, si sarebbe reso responsabile in più occasioni, documentate dai militari dell'arma, di condotte violente e minacciose nei confronti della madre convivente. I Carabinieri in pochi mesi hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza sull'indagato in merito a quanto denunciato dalla madre ormai esausta, minacciata con l'uso di bastoni e coltelli, offesa e mortificata da continue ingiurie, costretta ad abbandonare la casa di proprietà per non subire più questo tipo di maltrattamenti. I numerosi interventi, compiuti dai militari dell'arma, emerso come il giovane in poco tempo avrebbe distrutto parte degli arredamenti dell'abitazione causando delle ferite alla madre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le condotte violente del ventenne sarebbero state finalizzate all'ottenimento di denaro per il presunto acquisto di sostanze stupefacenti. Terminate le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. La Polizia di Stato è intervenuta a Catania presso una tabaccheria ubicata in Piazza Santa Maria di Gesù per una rapina. Sul posto, all'arrivo delle volanti, c'era già un poliziotto libero dal servizio che aveva provveduto a bloccare uno dei malviventi mentre il complice era riuscito a scappare. I due, dopo aver fatto eruzione all'interno dell'esercizio commerciale, armati di pistola, avevano dapprima aggredito il titolare, asportando del denaro dalla cassa, per poi scontrarsi col figlio del proprietario e quindi scappare. Come detto, uno dei rapitori è stato bloccato dal poliziotto libero dal servizio e poi tratto in arresto mentre l'altro è riuscito a far perdere le sue tracce. Sempre a Catania ma nel quartiere Librino la polizia ha invece arrestato uno spacciatore. Vediamo il servizio. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto classe 70 poiché è colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente. Personale della sezione antidroga della locale squadra mobile ha eseguito una perquisizione all'interno dell'abitazione dove risiede l'uomo ubicata nel quartiere Librino a Catania. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto gli operatori hanno rinvenuto un borsello in tela contenente un involucro in plastica con all'interno 60 grammi di marijuana e tre involucro in plastica con all'interno 30 grammi di cocaina. Nello stesso luogo inoltre sono stati trovati diversi oggetti idonei al confezionamento della sostanza come una bilancia e buste in cellophane. L'uomo è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sempre a Catania un altro pusher prendeva le ordinazioni direttamente sul suo smartphone ma è stato beccato dai carabinieri. I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un pregiudicato catanese di 22 anni. Nella loro costante azione info-investigativa particolarmente orientata al contrasto del mercato illecito di sostanze stupefacenti, gli uomini della squadra Lupi hanno monitorato il 22enne attuando un servizio di osservazione nei suoi confronti nel quartiere di Picanello che li ha condotti in via Regina Bianca dove gli operanti hanno notato il giovane effettuare lo scambio droga denaro con un acquirente. Tanto è bastato perché i militari entrassero subito in azione bloccandoli entrambi. L'acquirente al momento del controllo ha subito consegnato agli operanti due dosi di marijuana appena cedutegli dal pusher mentre quest'ultimo è stato perquisito e trovato in possesso di otto dosi della medesima sostanza stupefacente che celava nella tasca del giubbotto nonché aveva ancora in mano la banconota da 20 euro della compravendita della droga e altri 290 nella tasca tutto denaro ovviamente provento dell'attività di spaccio. Da successivi accertamenti è emerso che il pusher tramite un servizio di messaggistica sul proprio cellulare riceveva le ordinazioni di droga e concordava appuntamenti con i suoi clienti per la consegna. Il 22enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre il suo acquirente è stato segnalato alla locale prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Restiamo nel Catanese a Giarre dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto un 28enne. Vediamo perché. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno arrestato un 28enne di Santa Venerina già noto alle forze dell'ordine per detenzione di arma clandestina e ricettazione. I militari dell'arma a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 si sono recati tempestivamente presso un'area di servizio ubicata nel territorio del comune di Giarre laddove il sistema di localizzazione gps di un'autovettura poco prima rubata sempre a Giarre ne segnalava la presenza. Recatisi immediatamente sul posto i carabinieri hanno individuato l'auto segnalata in sosta nei pressi delle colonnine di rifornimento e hanno proceduto al controllo del 28enne di Santa Venerina seduto al lato guida il quale è stato notato dagli stessi militari operanti nell'atto di nascondere qualcosa sotto il sedile. I carabinieri hanno ovviamente effettuato una perquisizione all'interno dell'auto a seguito della quale nascosti sotto il tappetino poggiapiedi sono stati rinvenuti una pistola a salve modificata con sei cartucce la sicura non inserita e pronta all'uso un passamontagna e guanti in lattice e in lana ovvero l'occorrente per la realizzazione di una rapina. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la pistola sarà inviata al RIS carabinieri di Messina al fine di verificarne l'eventuale utilizzo in episodi criminosi mentre il 28enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto disponendone la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza. A Vittoria invece ci spostiamo quindi nel Ragusano, la Guardia di Finanza, parliamo di caporalato, la Guardia di Finanza dicevamo ha scoperto dei lavoratori in nero all'interno di una serra, sono scattate denunce e sanzioni, molti di questi lavoratori percepivano anche il re di cittadinanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno concluso una complessa attività di indagine di polizia giudiziaria ribattezzata solecocente delegata dalla locale procura della Repubblica nel settore del sommerso occupazionale del fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori, il cosiddetto caporalato, e dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza. Le indagini hanno avuto origine dallo sviluppo di una segnalazione a seguito della quale si è proceduto immediatamente a effettuare delle ricognizioni dei terreni segnalati situati nel mezzo della fitta vegetazione delle campagne di Vittoria, dove verosimilmente venivano impiegati lavoratori in nero. Circoscritta l'area di interesse, le fiamme gialle vittoriesi hanno rinvenuto all'interno degli oltre 15 ettari di appezzamenti, ancora intenti a lavorare all'interno delle serre adibite alla coltivazione di prodotti agricoli, 32 lavoratori per lo più di origine extracomunitaria, di cui 20 in nero e 12 irregolari. I riscontri effettuati hanno consentito di delineare una vera e propria attività organizzata di reclutamento dei lavoratori a basso costo, i quali, per necessità di sopravvivenza, hanno dovuto accettare le svantaggiose condizioni di lavoro loro imposte. L'attività svolta ha permesso di individuare anche i caporali, ovvero i due reclutatori di mano d'opera che, oltre a percepire la loro paga giornaliera, gestivano, per conto dell'azienda agricola, i pagamenti settimanali di tutti i lavoratori, trattenendo un'ulteriore somma al giorno a titolo di provvigione a danno dei medesimi soggetti. I finanzieri hanno inoltre riscontrato l'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di 12 dei lavoratori in nero che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. I due caporali e il titolare dell'azienda agricola sono stati deferiti alla locale procura e nei confronti di quest'ultimo sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 50 mila euro. Torniamo a Catania stavolta per parlare di spettacolo e della rassegna musicale Class Club. Al centro fioristico Le Ciminiere è stata presentata la rassegna di concerti Class Club 2022-2023 che dal 3 dicembre al 6 maggio offre al pubblico grandi nomi del panorama musicale. L'importante rassegna che spazia dal jazz al soul alla world music ed è giunta all'ottava edizione. Rilancia così Le Ciminiere come polo per grandi eventi. Federico Portocchese, il commissario straordinario della città metropolitana Concinzia Torrisi ha illustrato di linee programmati inerenti la musica e la cultura alle Ciminiere. Il manager direttore artistico Giuseppe Costantino Lentini invece della Inside Produzioni ha illustrato nei dettagli il cartellone soffermandosi su ognuno dei dieci spettacoli che andranno in scena. Il primo appuntamento è sabato 3 dicembre alle ore 21 con la grande musica da film. Saranno appunto dieci concerti davvero abbiamo fatto degli importanti sforzi anche per avere determinati artisti in determinati periodi perché non sempre coincide tutto con le date. Inizieremo appunto col maestro Paolo Ivaldi davvero il più importante compositore adesso conosciamo bene Morricone ma come dire il testimone passa proprio a lui sulle colonne sonore da film vediamo in tantissime colonne sono importanti. Poi passiamo appunto a Francesco Caffiso ma vicinissimi al Natale il 23 dicembre. Inizio dell'anno inaugureremo con Danilo Rea e poi continuiamo con tutto il calendario che appunto sarà costerà da dieci concerti. Siamo in un luogo straordinario in questo tempio Le Ciminiere un luogo bellissimo tra l'altro restaurato in modo magnifico alcuni decenni fa. È un luogo naturalmente stato un orgoglio un vero patrimonio per la città di Catania ha dato tantissimo lavoro tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento a questa città. Poi riconvertito naturalmente le finanze di questo luogo riconvertite hanno prodotto una grande macchina che è la macchina del cinema Catania del cinema muto degli anni dieci e oggi ci ritroviamo qui per lanciare una manifestazione stupenda, una bellissima manifestazione voluta dal direttore artistico da Giuseppe Lentini con il supporto ricordiamolo delle istituzioni del commissario straordinario del dottore portoghese e della professoressa Torrisio. Un momento veramente emozionante che parte proprio con il cinema. Parte con il cinema, parte con il maestro Paolo Vivaldi un concerto meraviglioso per musica da cinema. Avremo le musiche di Ennio Murricona, le musiche di Sakamoto e naturalmente in questo luogo appunto si aprirà con questo stupendo concerto per poi proseguire con un calendario magnifico. È tutto, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Grazie a tutti.